Io Aristi, anche lei un minuto. Vila Kelifa, Daniel Tareke, Danayet Kiros, Denden Amanuel, Efrem Semere, Filmon Tadesse, Güelle Kidani, Semira, muerta junto a su esposo Hasen y sus dos hijas, Kelati Araya, Lidia Mohamed, quien murió junto a su hijo, Mesguena Kidane, Mulueteki, Musa Ibrahim, Nureddin Mohamed, Saeed y Mahfuz Yonuz, Samuel Solomone, Semir Yassin, e così più di 23.000 persone da 1992. Grazie. Grazie. Grazie.